L'Italia non è molto facile realizzare i propri sogni anche perché non tutti ci riescono e bisogna essere molto determinati e ormai più i tempi si allungano, più è di studio, più è facile trovare un lavoro. Il sogno più grande è diventare una regista. Secondo me lo stato non è vicino ai giovani anche perché sono i giovani a capire meglio la situazione in cui si trova l'Italia e anche ad accettare tutte le diversità. I giovani vogliono avere la possibilità di esprimersi per quello che sono e anche di poter avere la possibilità di esprimersi perché molte volte non hanno proprio la possibilità.